buon salve a tutti quanti belli boys sono mancato da qualche giorno ma ora sono di nuovo qui con voi e la scorsa live era andata molto bene in realtà avevo provato a fare una cosa pazza ma che sembrava funzionare vale a dire che il paralog di baltus e api che sappiamo tutti essere uno dei paralog più difficili in realtà sembrava essere possibile a patto chiaramente di a patto di usare billet come scudo umano adesso ci ritorniamo al monastero e a patto che l'inar scrivi gambit e criti tutti senza pietà magari ci possiamo provare il mese prossimo perché il mese prossimo scadono quindi avremo diciamo con questa ultima possibilità però niente per adesso andiamo al monastero andiamo avanti con la storia tra l'altro io voglio fare vorrei fare crimson flower e quindi mi devo ricordare di parlare con edel card nel mese di febbraio che cazzo puttana troia è una notifica di un nuovo follower bene saluto questo o 0 3 0 1 2 ss e non ero abituato diciamo ai suoni di come cazzo si dice delle dei followers però la cosa fondamentale è che noi andiamo nel giardino dove spero mi diranno ciò che mi devono dare mi sa che conviene andare di strength per ora che c'è anche maggiore frequenza rispetto alla speed carrot comunque forza e velocità sono le statistiche su cui ci dobbiamo concentrare un pochino di più speed per non essere doppiato perfetto dai andiamo un altro po' di strength che vuole i purple se non sbaglio cioè questi vuole i purple si si e li sto finendo piano piano e niente poiché ho fatto la build che deve grittare vado non so parlare oggi ve ne sarete accorti che non so parlare si benissimo sono appena tornato da un viaggio per questo sono mezzo distrutto comunque perfetto mi piacerebbe anche la speed in realtà mi piacerebbe anche la speed però piano piano la speed ho provato due volte non mi ha dato quel cazzo di cioè quei semi di merda non mi hanno dato il il coso e quindi niente allora non c'è un cazzo da fare in realtà non c'è veramente un cazzo da fare quindi cosa possiamo fare possiamo fare niente se non pescare un po' pranzare un po' cioè non lo so che cazzo possiamo fare cazzo da fare in realtà ciao edelgarda edelgarda così pompiamo anche di nuovo la motivation la motivazione poi io mi sono tagliato le gambe da solo quando quando diciamo ho accettato quella quest di merda dove ma l'inart è giantato il sauna sì penso di sì eh sì infatti questa quest del cazzo che non mi fa fare i tornei madonna mi serviva per il professor level eccellente fanculo naggia la troia eh po proviamoci ma tanto lo piglio un culo infatti ho presa proprio nel culo ooo vabbe non che avessi molto molto da fare vediamo un po' qui ah possiamo fare il coro così tanto per La gloria del progetto Vorrei aumentare sto Professor Leaver ma non so veramente che minchia fare Una rottura di palle allora Eh 1600 madonna voglio ancora Io potrei comprare sta roba E vendermela all'altare Non so neanche quanto ne valga la pena Solo devo essere sincero Perché prima che arrivi a 3 via 5 Che cazzo mi serve No dai esistiamo E sapete che c'è Che io salvo Anzi andiamo prima di qua Reprenesciamo Aeriamo No aeriamo niente Dobbiamo andare qui Dal black market Sì dal black market Come cazzo si chiama Riparare E basta perché mi scoccio Quindi andiamo avanti E via Chi si è visto Si è visto Vediamo un attimino Che cosa succede Questo capitolo Non dovrebbe essere Troppo complicato Vabbè non che mi interessi In realtà Quindi va bene così E niente Molto semplicemente Andiamo Cronia mi pare che sia Il prossimo capitolo Vero? Cronia E poi quello di Edelgard E un attimino Che cosa riusciamo a fare Che cosa riusciamo a fare Ok Ok E niente Possiamo andare Hello Hello Kill every last one of them Allora Che dobbiamo fare Niente Tu te la vai E tu Da che lato vai Ma sì Qua Tunga Scali Cioè Gli smonti Non rompermi il cazzo Ah ma c'è una cesta Ah ma c'è una cesta Lì c'è una Una cesta Mi sono scordato che ora Mi sputa il fuoco Tutta una troia di merda Raffanculo La mia stai bestie Che cancro Ah ma c'è una cesta Ah ma c'è una miseria Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud forse livella forse livella ora parte il crit il crit compulsivo mannaggia il battaglione questo è un po' un cancrello eh dove vuole andare quella bestiaccia oh 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 affanculo va stiamo andando un pochino malino so no Ah! Ok, va Dai, non crit nemmeno così però Che cazzo però Ok, va, questo è andato Proviamo, va Mi servirebbe Ah, buono Bello, bello Ma mi stanno prendendo in giro? Ma mi stanno prendendo in giro? La spirit ci fa comodo Ok, chiedo bene Allora Non capisco perché questo stramaledetto No, ho sbagliato di nuovo Ecco, sono distrattissimo Puttana troia Dio, ma perché non critta Puttana merda Dio Allora Allora Ok, va Dio Oh, che cazzo era ora Vaffanculo Allora Allora No Olè, vai Allora Non ci interessa Allora 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 Grazie a tutti. Questa è tutta Easy Exp. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ottimo. Grazie a tutti. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi usare la Devil Axe? Il problema della Devil Axe è che non... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu facciamoci un bookman aspetta Mike facciamoci pure un backup il mio cazzo di internet doveva un attimino andare a a squagliarsi ma non importa farò i dovuti montaggi e poi facciamoci un po' ah ragazzi è dura la vita da bomber è proprio dura la vita da bomber the devil's day, the devil's day, we all live in the devil's day, the devil's day, the devil's day mamma mia sono proprio stanco, sono proprio distrutto si vede che non capisco un cazzo oggi meno male che questo capitolo non dovrebbe essere troppo difficile però le bestie sono veramente due palle di nemici allora ora stay focused i'd like to use no no Buon appetito alla prossima! Cioè ma Edelgar sta a un sacco di velo e Linast no, cioè ma di che cosa stiamo parlando? 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 Ok. 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 Olè benissimo due livellini tattici. Ok. Ci possiamo accontentare. Ok. 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 Sì, non ciò che parlano. il cricolico non fa un cuore Grazie a tutti 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 Maghi di Grazie a tutti 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 Voglio Grazie a tutti 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 Nobun Grazie a tutti 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 Nobun Grazie a tutti 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 Allora Allora Grazie a tutti Master Grazie a tutti Grazie a tutti Noi Grazie a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti Now Grazie a tutti 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 Allora ragazzi io metterei un bel book marcherino e continueremo non so se stasera un'altra volta Però intanto ora me ne vado Vi saluto Siccome questa partita, questa run mi è piaciuta Questa partita mi sta piacendo Al solito sono molto curioso di vedere cosa riusciamo a fare Ci si vede next time Marcher e via